. Paris Hilton, scatti vintage e troppo sexy per l'erede più popolare Negli ultimi scatti da Photoshop, Paris Hilton ha dato prova di essere la casalinga più sexy del mondo con una serie di outfit e acconciature ispirati agli anni 50, alla sensualità in gingham e alla vita domestica Il risultato è un trionfo di seduzione e bellezza, con un pizzico di senso dell'umorismo made by Paris che non manca di deliziarci Paris Hilton, ancora una volta un'icona di stile Mentre posa per il suo nuovo servizio fotografico dedicato alle faccendi di casa in chiave sexy, Paris Hilton è una bomba di sensualità con qualche fotoritocco che fa esplodere di lì che si il suo già frequentatissimo profilo Instagram A renderla ancora più speciale ci sono gli outfit e le acconciature dall'ispirazione vintage ma dal taglio modernissimo, una cucina e uno spolverino, una chitarra e un segway Questi scatti da oltre 100.000 lì che scomplessivi hanno catturato l'attenzione con una bomba di irriverenza e un messaggio importante, tutte le donne valgono, indipendentemente dalla loro occupazione principale Io sono una donna, qual è il tuo superpotere invece? Scrive Paris mentre posa come una diva e si gode un po' di creatività allo stato puro Nel suo ultimo video con cornice meme, Paris ha scritto, tagga qualcuno che è extra allo stesso modo mentre fa le pulizie E a ben vedere, nel corto, Paris si è agganciata a un lavapavimenti alla schiena e si sposta per casa, in abiti da Marilyn Monroe, a bordo di un grosso segway Mentre il pavimento, in qualche modo, viene pulito, l'ereditiera fatica però a stare in piedi, e in più di un'occasione rischia di cadere o capitombola definitivamente a terra Zietta perfetta Solo qualche giorno fa, Nichilton ha annunciato l'arrivo del suo secondo figlio con il magnate James Rothschild Paris è entusiasta all'idea di diventare zia Bis, e nel corso della presentazione di Simpli Complicate di Demi Lovato, il suo nuovo documentario, La bella ereditiera ha rilasciato una mini-intervista al People in cui conferma la sua gioia, Nichi se la sta cavando benissimo, ha raccontato, senza esagerare, è la donna incinta più bella che io abbia visto in tutta la mia vita Quanto alle dicerie che Nichi avesse avuto problemi o non si fosse sentita bene nel corso dei primi mesi, Paris nega tutto, è un soldato, e non vedo l'ora che arrivi il bambino E a ben vedere, Paris Hilton, che ha recentemente trovato il vero amore con Shris Zilka, ha espresso più volte il suo desiderio di mettere su famiglia con lui e, perché no, diventare mamma Quando si ha accanto una persona straordinaria, del resto, è facile sentire la necessità di costruire qualcosa di speciale insieme Ed essere zia, ormai, non le basta più Ed essere zia, ormai, non le basta più